Faccio riferimento a un documento delle Nazioni Unite del dicembre 2013, quindi poche settimane fa, ed è relativo alla situazione in Siria. Come forse sapete in Siria è in atto, ormai da più di due anni, una guerra civile, c'è stata una ribellione popolare, composita, eterogenea, molte forze diverse, però unite tutte dall'opposizione al presidente della Siria, ad Assad, che a sua volta era il figlio del presidente precedente. Quindi diciamo un regime quasi dinastico, non possiamo avvicinarlo alle monarchie dei nostri antichi regimi, però certamente non è una democrazia la Siria e buona parte della ribellione in corso si spiega in questo modo. Come funziona il problema dei profughi, il problema delle popolazioni civili durante un'emergenza di questo tipo, cosa riusciamo a fare noi attraverso l'Agenzia Internazionale delle Nazioni Unite, quindi come interveniamo sul terreno e quali sono i problemi che ci troviamo di fronte. Questa è la mappa della Siria, più o meno, sapete che siamo nel Medio Oriente, qui c'è Israele, qui c'è la Giordana, l'Arabia Saudita, l'Iraq, la Turchia a nord, quei tondi rossi che forse riuscite in qualche modo a intravedere sono i campi profughi. Come vedete sono tutti posti alle frontiere, fuori dalla Siria, perché il problema prioritario è quello di salvare questa gente che è in fuga da un conflitto, da una guerra e che quindi scappa per garantirsi l'incolumità, la sopravvivenza fisica, materiale. E quindi si tratta di portarli fuori dal conflitto, dalla frontiera della Siria in questo caso e queste palle che vedete corrispondono ad altrettanti campi profughi. Quando parliamo di un campo profughi parliamo di un attendamento, un campeggio, quindi con rifugi molto molto di fortuna, l'attrezzatura è provvista dalle Nazioni Unite che hanno una task force, come si dice in gergo, cioè un reparto pronto a intervenire in questi casi di emergenza e come vedremo tra un attimo lo fa in diverse parti della terra e quindi la principale preoccupazione è quella di mettere in salvo queste persone. Stiamo parlando, lo vediamo meglio in questa tabella, di un milione e mezzo di persone su 20 milioni di abitanti della Siria. Quindi come vedete c'è una percentuale che si avvicina al 10% di persone che si sono sentite in pericolo di vita dalla guerra, che quindi hanno chiesto l'intervento delle Nazioni Unite, che è intervenuto prima di tutto per salvarli. Non c'è grossa differenza fra la popolazione che sta dentro queste tende nei campi profughi e la popolazione normale, tra virgolette, della Siria. Ci sono molti giovani, perché tutte le popolazioni del Medio Oriente e dei paesi arabi in genere sono caratterizzate, a differenza dalla nostra, da molte alte percentuali di giovani, ci sono sia maschi sia femmine. Quindi siamo in presenza di nuclei familiari, non ci sono soltanto donne e bambini. Siamo in presenza di una popolazione che non è diversa da quella che è rimasta a casa e che quindi non è sotto la protezione delle Nazioni Unite. Prima di tutto la vita e la vita vuol dire garantirli dal pericolo del conflitto armato, dagli scontri a fuoco, quindi portarli fuori dalle zone dove c'è la guerra. Secondo l'accesso ai servizi di base, l'acqua pulita, il cibo, un riparo che gli consenta di sopravvivere nelle escursioni climatiche, nelle piogge, insomma di avere una vita provvisoria, perché stiamo parlando di accampamenti, però in qualche modo sicura. Sicura e quindi ha bisogno di servizi di prima necessità, cibo, alimenti, tutte queste cose vengono garantite dalle Nazioni Unite e siamo anche noi poi a sostenerle, spesso ci sono campagne di raccolta fondi che coinvolgono le popolazioni dei paesi ricchi, spesso ci sono accanto alle Nazioni Unite che lavorano con loro organizzazioni non governative, si chiamano così, e che sono associazioni private come Oxfam, come Medici Senza Frontiere, come tante altre che danno il loro contributo volontario, gratis. Quindi tutto questo è garantito dai soldi delle Nazioni Unite e dei paesi ricchi. Questo è il discorso che ci introduce al secondo problema, cioè il diritto d'asilo, ammissioni. Cosa vuol dire l'ammissione umanitaria? Talvolta, non sempre, anzi stiamo parlando di una minoranza, queste persone decidono di non voler più tornare a casa, perché ritengono che la situazione anche in un futuro, più o meno prossimo, non gli dia garanzie. Pensano di poter essere di nuovo perseguitate, possono di poter essere di nuovo in pericolo di vita. E allora chiedono asilo, protezione, rifugio a un altro paese. Qui per esempio dice 5.000 posti sono stati offerti dalla Germania, come vedremo tra un attimo, la Germania è uno dei paesi che ospita di più, più generoso nel concedere il diritto d'asilo. Come sapete forse dalla letteratura il diritto d'asilo è una cosa molto antica, anche nel Medioevo, in epoca moderna, chi riusciva a rifugiarsi dentro una chiesa era un luogo santo ed era teoricamente, temporaneamente al riparo dalla autorità pubblica, dai poliziotti dell'epoca, dai potenti laici. E quindi questo è l'antenato di un diritto che poi è rimasto in tutte le costituzioni, più o meno, di tutti i paesi civili. Cioè una persona che è in fuga da un pericolo di vita, da un pericolo di sopravvivenza, ha la facoltà di chiedere asilo, rifugio a un altro paese. E quest'altro paese se riconosce che ci sono le ragioni, cioè che quella richiesta di asilo è giustificata, ha l'obbligo, il dovere di concederglielo. Non può dire di no. Questo è un elemento di civiltà giuridica che è molto vecchio, è molto antico, però è diffuso più o meno universalmente nel mondo. Purtroppo la situazione della Siria non è una situazione rara. C'è un libro di una mia collega che insegna a Leeds, si chiama Mary Caldor e si intitola Le nuove guerre. Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo la fine della seconda guerra mondiale e ancora di più dopo la fine della guerra fredda, cioè dopo la caduta del muro di Berlino, le guerre sono cambiate. Un tempo, e appunto anche con la guerra del Vietnam e anche con la guerra di Corea, c'erano due eserciti ben riconoscibili, avevano le loro uniformi, le loro bandiere, c'era una linea del fronte che li divideva. In mezzo c'era la terra di nessuno ed era questa la guerra tradizionale. La prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, hanno più o meno funzionato in questo modo. Le nuove guerre non funzionano più così. Se voi andate in Siria oggi e provate a muovervi, non sapete in che zona siete, cioè se siete dalla parte di Assad o se siete dalla parte dei ribelli, perché il fronte, la linea del fronte non esiste più, è tutto a macchia di leopardo, perché la guerra si è privatizzata. Mary Caldor usa questo termine per dire che in realtà non esistono quasi più eserciti regolari, con le loro uniformi e le loro bandiere. Esistono bande paramilitari. Mary Caldor ha visto tutto questo nei Balcani, negli anni 90. Ricorderete forse che in quegli anni, dal 1992 al 1997, si è combattuta una di queste nuove guerre e che è diventato un po' anche l'archetipo, il laboratorio sperimentale delle caratteristiche di base di queste nuove guerre. Ricorderete che allora c'erano queste bande paramilitari, le Tigri di Arcane, che poi erano gli ultra della Stella Rossa di Belgrado, di una squadra di calcio, che però si erano trasformate ed erano diventate una formazione paramilitare. Che fine fanno le popolazioni civili in queste nuove guerre? È una fine molto brutta, perché diventano gli ostaggi di una parte e dell'altra. Quando voi avete presente le statistiche della prima guerra mondiale, voi avete un conflitto che nel numero di vittime di caduti rimane circoscritto limitato agli eserciti. Ci sono delle vittime civili, però sono delle vittime legate indirettamente alla guerra, sono vittime delle epidemie, del contagio, perché naturalmente quando arrivano gli eserciti portano un abbassamento degli standard di igiene e di sanità e quindi sono vittime indirettamente collegate alla guerra. Con la seconda guerra mondiale abbiamo avuto un incremento delle vittime civili, pensate ai bombardamenti aerei, no, nella prima guerra mondiale non c'erano quasi, l'aviazione c'era Francesco Baracca, faceva il barone rosso dei duelli, ma insomma, nella seconda bombardamenti a tappeto su Milano, su Roma, su tutte le città tedesche e quindi il numero delle vittime civili aumenta. Nelle nuove guerre noi siamo vicini al 100% di vittime civili, cioè abbiamo un paradosso che i combattenti si sparano tra di loro, ma non si pigliano quasi mai per quelle caratteristiche a macchia di leopardo, anche molto mobile della guerra, chi ci rimane nel mezzo indifesi e quindi facili bersagli, sono proprio le popolazioni civili. Spesso addirittura queste bande paramilitari prendono proprio in ostaggio le popolazioni civili perché sanno che se li espongono al rischio e hanno una risonanza attraverso i media, attraverso le televisioni, arrivano degli aiuti e allora il disegno delle bande paramilitari è di mettere le mani anche su quegli aiuti. Se non c'è di mezzo il petrolio, se non c'è di mezzo qualcosa che riguarda da vicino la nostra vita di occidentali, di paesi ricchi, sono guerre dimenticate, sono guerre di cui i media non si occupano perché sono guerre anche in Burundi, nel Chad, Algeria fronte islamico di salvezza, questa è stata una guerra oggi conclusa, ma negli anni 90 100.000 vittime ha fatto, quindi non stiamo parlando di pochi caduti in queste guerre e queste 100.000 vittime sono tutte vittime della popolazione civile. Allora vedete che quel diritto d'asilo, da cui siamo partiti, l'attività delle Nazioni Unite, diventa essenziale per salvare questa gente e diventa molto urgente, cioè se lo fai subito li salvi, se non lo fai subito diventa tutto molto più complicato e tutto molto più difficile. 1994, qualcuno di voi forse ha visto Hotel Rwanda, il genocidio che nella regione, nello Stato, una nazione del Rwanda, si consuma tra Tuzzi e Utu, circa 800.000 vittime, il generale Romeo Dallaire che è lì a comandare i caschi blu delle Nazioni Unite, i Blue Helmet sono la prima forza di interposizione, cioè sono l'esercito delle Nazioni Unite che ha il compito non di combattere da una parte o dall'altra, ma di garantire quel lavoro a favore delle popolazioni civili e quindi di mettersi come cuscinetto, come forza di interposizione fra i due leticanti. Chiede a più riprese l'intervento delle Nazioni Unite, le Nazioni Unite per il loro statuto sono obbligate a intervenire se viene riconosciuta la parola magica, genocidio, dal greco uccisione di un popolo, il popolo qui deve essere inteso in senso ampio, come gruppi etnici, religiosi, culturali, politici, ecco quando si tenta di eliminare completamente uno di questi gruppi umani si ha il genocidio, se si pronuncia questa parola magica le Nazioni Unite hanno l'obbligo di intervenire, il generale dei caschi blu sul campo canadese, franco canadese, chiede di riconoscere questa parola, le Nazioni Unite incontrano il veto degli Stati Uniti perché gli Stati Uniti l'anno prima, chi di voi ha visto Black Hawk Down, il falco nero che sono gli elicotteri da guerra dell'aviazione italiana degli Stati Uniti, in Somalia, a Mogadiscio, una grande operazione umanitaria, Restore Hope, restaura la speranza, ricostruirci la speranza, finisce nel sangue, 19 marine gloriosi dell'esercito degli Stati Uniti vengono uccisi per le strade di Mogadiscio, in maniera anche barbara i loro colpi vengono trascinati per la strada, il presidente Clinton dice non possiamo esporci a un altro fiasco così e quindi mette il veto, il risultato è che quella roba che avete visto in Siria non viene fatta e tra 800 mila e un milione di persone muoiono, le altre scappano, scappano nei paesi limitrofi, in Congo, in Burundi e lì arrivano le Nazioni Unite ad allestire i loro campi profughi. Questa è una zona, questa e l'altra zona che è Pakistan-Afghanistan. Le due guerre del 2001 e del 2003 combattute non solo dagli Stati Uniti, anche da ampie coalizioni internazionali in seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre. Vi ricordate le due torri di New York che vengono giù, gli Stati Uniti dicono bisogna andare a combattere questi terroristi, Bin Laden eccetera, il risultato sono queste due guerre che come sapete stanno durando tuttora. C'è una exit strategy, però ancora i nostri soldati stanno lì in ambedue questi teatri di guerra, sia in Afghanistan che in Iraq. E questo crea altri profughi, altri rifugiati nei paesi vicini, dall'Afghanistan soprattutto in Pakistan, dall'Iraq soprattutto in Iran, anche nella stessa Siria, quindi ci sono situazioni che poi si sovrappongono e si mischiano tra di loro e tutto questo genera questa situazione di rifugiati. C'è anche la Cina, in realtà è una situazione particolare, ci sono 300.000 profughi nord vietnamiti in Cina che risalgono ai tempi della guerra del Vietnam, ma che poi in Cina si sono trovati bene, fanno i loro affari, sono classificati ancora così perché statisticamente non hanno mai preso la cittadinanza cinese, quindi risultano ancora stranieri, migranti e però non è proprio una di quelle situazioni drammatiche di cui sto parlando. Gli Stati Uniti e la Germania sono due tra i paesi che al mondo accolgono di più profughi e quindi asylum seekers, come dicono alle Nazioni Unite, cioè i richiedenti asilo, che sono quelle persone che decidono di non tornare più a casa loro e quindi di andare a stabilirsi, a rifarsi una nuova vita in un'altra nazione. Vi chiederete perché la Germania? Perché la Germania è il paese europeo che accoglie più immigrati, soprattutto Turchi. Ha una lunga tradizione che risale fino agli anni 50, allora eravamo noi italiani a andare in Germania e oggi ci sono in tante città della Germania dei quartieri abitati in prevalenza da Turchi. I Turchi hanno un problema di difesa dei diritti umani, di potenziale genoscidio, c'è una discussione che riguarda il Kurdistan, i kurdi che è una regione, un popolo con una sua lingua, una sua religione che sta al confine tra Turchia, Iraq e anche un po' la Siria, quindi in quella parte di terra del Medio Oriente noi abbiamo diversi problemi. La Germania è stato un paese generoso negli anni, li ha accolti, prima aveva una legislazione molto molto rigida per riconoscerli come cittadini tedeschi, si doveva aspettare addirittura 15 anni, 15 anni di stabile residenza in Germania, di lavoro, di aver pagato le tasse, a quel punto dopo 15 anni potevi chiedere, se ti interessava, di diventare cittadino tedesco, se no rimanevi un gastarbeiter come chiamano loro, cioè un lavoratore ospite, un lavoratore straniero, quindi era questa condizione temporanea che si protraeva nel tempo. Quando pensiamo ai migranti facciamo sempre l'elore di considerarli migranti definitivi. Ecco, questa condizione, cioè di chi arriva in Italia, per esempio, dal Marocco, dalla Cina e decide di vivere sempre qua, è una minoranza, siamo lì nel 40-50%, tra un terzo e la metà tornano a casa dopo un periodo medio di 5 anni, quindi non un'eternità. Questa è la condizione normale dei migranti, la cosa buffa era che era la stessa condizione dei nostri antenati quando erano loro a emigrare, 100 anni fa, come forse sapete, in Brasile, in Argentina, negli Stati Uniti eravamo noi italiani ad andarci, no? Alcuni hanno fatto fortuna, Rudolf Giuliani è diventato sindaco di New York, in cui la sua famiglia originariamente era andata da immigrata alla fine dell'Ottocento. Ecco, anche loro, anche questi migranti di un secolo fa, avevano lo stesso comportamento, cioè solo una minoranza rimaneva definitivamente negli Stati Uniti. Una metà, ma spesso anche di più, tornava a casa, dopo un periodo medio che era più o meno lo stesso, 5 anni. Quindi quando voi trovate il cinese, il peruviano, il filippino, il marocchino, ecco, non bisogna pensare che quello sia uno che è venuto e vuole rimanere qua. Molto spesso, molto spesso, lui vuole tornare a casa, è qui per fare dei soldi, è qui per che si guadagna di più. Pensate che la differenza di stipendio che un ingegnere informatico può avere in India e negli Stati Uniti è di più di 20 volte. Cioè, se quello stesso ingegnere rimane in India, guadagna un ventesimo di quello che potrebbe guadagnare se immigra negli Stati Uniti. E quindi è chiaro che c'è una forte attrazione, no? Verso le nazioni più ricche. Nonostante questo enorme dislivello di condizioni economiche, quello stesso ingegnere indiano, se può, vuole tornare a casa. Perché lì stanno le sue origini, lì stanno la sua famiglia, lì stanno le sue radici. Va negli Stati Uniti per mettere da parte un certo capitale e tornare a casa. Questa è anche, normalmente, la condizione dei rifugiati. Anche di questa gente che rischia la vita, molto spesso tornano a casa, appena possono, appena le condizioni glielo permettono. Il diritto d'asilo è un diritto garantito dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Ora, come vedete, l'articolo 13, in realtà, che è quello che si occupa dei movimenti internazionali di persone, ha una formulazione che a noi sembra molto strana perché dice, ognuno ha il diritto di muoversi dentro le frontiere di uno Stato. E poi, soprattutto, ognuno ha il diritto di lasciare ogni paese, incluso il proprio, e di ritornare al proprio paese. Perché? Perché il problema, allora, era di quelli che la Seconda Guerra Mondiale aveva reso profughi, aveva fatto scappare da casa propria. Quindi il diritto fondamentale che le Nazioni Unite hanno di fronte come emergenza nel 48 è quello della tregua di Primo Levi, cioè di far tornare a casa i perseguitati dei campi di concentramento, gli stessi cittadini tedeschi che erano stati catturati dai russi in Unione Sovietica. Ecco, tutta questa gente doveva poter tornare a casa e non doveva stare in campi di detenzione, ecco perché il primo comma doveva essere libera di muoversi e doveva essere libera di tornare a casa. Quindi qui noi abbiamo un buco della legislazione perché non c'è niente che garantisca il diritto di qualcuno a entrare in un paese diverso da quello in cui siamo nati, che è il problema dei richiedenti diritti asilo e anche dei migranti economici, chiamiamoli così per parlare di quel famoso ingegnere informatico elettronico indiano, no? Quelli che sono attratti da migliori condizioni di vita e quindi non hanno un problema di sopravvivenza. Ci sono due categorie di migranti che stiamo cercando di trattare insieme. Soltanto nel 1990 noi, le Nazioni Unite, hanno fatto una convenzione, una convenzione è un accordo internazionale, quindi si stabilisce un documento scritto con tutti i suoi articoli sulla carta e poi ogni singolo Stato decide o meno si aderirci. Questo è il meccanismo delle convenzioni, come vedete per la protezione dei diritti dei migranti, dei lavoratori migranti, il nostro ingegnere informatico. E quindi però che cosa succede? Che soltanto 42 Stati sui 192 che fanno parte delle Nazioni Unite ha ritenuto di firmarlo e tra quei 42 Stati non ce n'è nemmeno uno dei paesi oxe, cioè dei paesi ricchi. Stati Uniti, Europa occidentale, Giappone, Australia, tutti questi si sono ben guardati dal sottoscrivere un accordo internazionale che li impegnasse a riconoscere diritto d'asilo, diciamo tra virgolette, a qualsiasi immigrante si presenti alle mie frontiere. Quindi c'è una situazione ancora di vuoto giuridico. Il migrante economico non ha una protezione dal diritto internazionale. Veniamo invece al nostro migrante in pericolo di vita, quello che scappa dalla situazione della guerra. Ecco, lì c'è un classico problema di conflitto fra questo buco legislativo, perché non gli viene riconosciuto il diritto di entrare in un nuovo paese, e le singole legislazioni internazionali, nazionali scusate, le singole legislazioni dei singoli Stati, che ha il problema di fondo del diritto internazionale. Quanto conta lo Stato, nazione, l'Italia, la Germania, la Francia, quanto contano le Nazioni Unite. È il problema che noi abbiamo sempre quando parliamo di problemi di ordine internazionale. Ed è un problema che avremo sempre di più nel futuro, perché tante emergenze ormai sono sovranazionali. Pensate all'ambiente, pensate alla finanza che gira in tutti i paradisi fiscali, pensate al problema dei migranti, sono tutti problemi che è sempre più difficile affrontare dentro i confini del singolo Stato. Stato. Allora, qual è la situazione reale? La situazione reale è che c'è un grande mosaico di leggi nazionali. Diciamo che più o meno le legislazioni europee riconoscono il reato di immigrazione clandestina, ce l'abbiamo anche noi, c'è ancora una discussione sul fatto di abolirlo o meno, il reato di immigrazione clandestina è qualcosa di nuovo. Pensate che i nostri nonni venivano incentivati, venivano richiesti dai governi del Brasile e dell'Argentina, cioè gli immigrati li volevano perché nel nuovo mondo, in America, avevano più terra che abitanti. C'era una legge negli Stati Uniti, l'Homsted Act, fatta nel 1862, dava per 25 centesimi di dollaro tutta la terra nel West che tu riuscivi a percorrere a cavallo in un'ora. Allora arriva un governo e ti dice guarda, te monti su questo cavallo e tutta quella terra è tua, per 25 centesimi di dollaro, cioè quello che ci compi la mattina un pezzo di pane e io te la do perché ce ne ho tanta e perché non c'ho chi mi ci sta, gli indiani l'ho fatti fuori con le mie maniere spicce e quindi voglio che ci vadano bianchi, gente come te. Cosa fanno i nostri nonni? Non ci pensano nemmeno a andarsi a prendere la terra. Preferiscono la mafia, preferiscono Don Vito Corleone, cioè preferiscono stare in città sotto la protezione del connazionale che è già arrivato lì. Ed è anche comprensibile se ci pensate un momento perché io vado in un paese e non conosco la lingua, non mi sono mai mosso di casa, almeno se c'ho lì un parente, un amico, un compaesano che mi dà i primi passi, mi dice dove posso andare a stare di casa, mi dice dove posso andare a trovare un lavoro. Ecco la mafia, cosa nostra, Don Vito Corleone il padrino, nasce così, nasce come un'organizzazione di protezione degli immigrati e pensate quant'è forte questo vincolo, i sociologi lo chiamano il cluster, cioè il ghetto, la autosegregazione urbana, no? Cioè te preferisci Little Italy o Chinatown, non cambia, se cambiano i colori della pelle o cambia la nazionalità, il meccanismo mentale non cambia, preferisci la protezione dei tuoi connazionali rispetto alla possibilità da solo di andare nell'Ouest e di farti la tua terra. Quindi vedete come certi meccanismi, anche noi oggi critichiamo giustamente, dice l'immigrazione cinese, sono separati, hanno le loro mafie, le loro organizzazioni. Ecco, ricordiamoci che questa roba l'abbiamo inventata noi italiani, quindi non è che possiamo dire ecco sono i cinesi, i primi a farlo sono stati i nostri nonni. Quindi questo meccanismo del diritto d'asilo e torniamo al nostro reato di immigrazione clandestina. Ecco, tutto questo cento anni fa non c'era ed è una delle tragiche novità di oggi. Perché? Perché ve lo faccio vedere, perché dal 1973 in poi noi abbiamo avuto una serie di legislazioni restrittive dell'immigrazione. ecco, qui vi ho messo le variabili della globalizzazione, no? La globalizzazione cos'è? Sono i grandi movimenti di merci, i vostri jeans o le vostre magliette che vengono, se guardate l'etichetta, da Taiwan, da Singapore, dal Vietnam, movimenti di capitali, i soldi che vanno appunto nei paradisi fiscali oppure a fare investimenti in Cina dove la forza lavoro costa di meno e di persone. Allora, se voi vedete l'export mondiale, cioè i movimenti delle merci, appunto delle vostre magliette, è cresciuto tra il 73 e il 98 a un ritmo medio annuo del 5%. I soldi molto di più, perché i soldi sono anche meno pesanti, no? Si possono farli viaggiare in tanti modi, anche semplicemente col calcolatore, addirittura quasi un terzo ogni anno, aumentata la massa di denaro che si sposta in tutto il mondo, i nostri migranti aumentano molto molto più lentamente. Come vedete siamo a livello dell'incremento demografico. Perché? Perché i paesi con politiche restrittive dell'immigrazione, cioè che bloccano, che riducono l'afflusso di immigrati, erano 10 nel 1976, sono diventate 78 nel 2000. Dei 29 paesi oxe, cioè i paesi più ricchi del mondo, 12 hanno politiche di riduzione degli immigrati, 16 hanno politiche di stabilizzazione, che vuol dire si mantiene costante ma non si deve aumentare la presenza di immigrati. Uno, l'Islanda, non ha politiche ma si può capire perché è messa lassù in cima ed è molto difficile arrivarci. Parallelamente a questo cresce la migrazione clandestina. Esistono delle relazioni delle Nazioni Unite, a Ginevra c'è l'International Office for Migration, che è l'agenzia dedicata, che anno dopo anno cercano di fare luce su questo fenomeno della migrazione clandestina. Cosa succede? Succede che ci sono diverse organizzazioni criminali che le prime prendono in consegna l'immigrato al momento di lasciare il proprio paese. Le seconde gestiscono il suo viaggio di trasferimento, i famosi scafisti con i gommoni che stanno nel Mediterraneo, le terze gestiscono il loro inserimento clandestino nella nuova destinazione, nel nuovo paese. Allora le Nazioni Unite distinguono a questo proposito tra smuggling e trafficking. Smuggling è il contrabbando, quindi è il semplice reato di immigrazione clandestina. Le stime ci dicono oggi che più o meno l'equivalente dei migranti legali entrano illegalmente. Grosso modo in Europa abbiamo ogni anno un milione, grosso modo di persone, 800 mila o un milione, che entrano legalmente. Le stime delle Nazioni Unite dicono che altrettanti, quindi altri 800 mila o un milione, entrano illegalmente. Attenzione, quelli che vedete sui telegiornali, cioè quelli che arrivano stremati avendo passato il Mediterraneo su queste carrette del mare, sono una minima parte, sono il 10%, grosso modo. La grande maggioranza è composta da overstayers, cioè da persone che entrano legalmente in Italia, semplicemente come turisti, come con un permesso temporaneo, e poi si trattengono più del tempo, generalmente 3-6 mesi, che il loro visto gli concederebbe. Negli Stati Uniti la situazione è esattamente la stessa. Quindi quei fenomeni che vedete al telegiornale sono soltanto la punta di un iceberg che adotta sistemi molto meno clamorosi, molto meno anche evidenti nella copertura dei media di quelle che voi trovate. Che cosa succede? Succede che questo tipo di ingresso illegale oggi genera un volume d'affari per queste organizzazioni criminali che sta rapidamente raggiungendo quello del traffico di stupefacenti. Quindi alle organizzazioni criminali conviene questo traffico di esseri umani. E guardate che non stiamo parlando soltanto del contrabbando. Le Nazioni Unite parlano di trafficking quando questi migranti vengono ridotti in schiavitù. Slavery è la parola che usano le Nazioni Unite. Perché? Fate il caso della ragazza nigeriana. La ragazza nigeriana viene presa nel suo villaggio, gli viene detto vai in Italia, farai il cinema, diventerai una star, una stella del media system. Siccome in Nigeria vedono la televisione, spesso riescono a vedere anche quella italiana, questa balla ha una sua plausibilità. Alla ragazza l'organizzazione prende il passaporto, si fa dare una cifra di alcune migliaia di euro che è una cifra altissima. Per loro vuol dire alcuni anni. Quindi la ragazza spesso non ce l'ha questi soldi e si indebita, si impegna a ripagarli all'organizzazione quando andrà a lavorare, quando diventerà una stella del cinema. Nel frattempo l'organizzazione la tiene sotto il suo controllo perché ha il suo passaporto. Quando arriva in Italia quella ragazza ha la brutta sorpresa di trovarsi nel racket della prostituzione. E quindi viene ridotta in schiavitù con ricatto. Il tuo passaporto ce l'ho io. La legislazione di questo paese non ti riconosce nessun diritto perché sei entrata illegalmente e quindi tu o fai quello che ti dico io e vai a fare la prostituta oppure non hai salvezza. Ecco la riduzione della donna in questo caso in stato di schiavitù. È come la schiavitù. Quando parliamo di questa realtà della immigrazione clandestina, immigrazione illegale, parliamo di una realtà molto molto dura. Non c'è solo questa. Oggi una delle grandi novità rispetto al passato, anche rispetto a cento anni fa, è la femminilizzazione della migrazione. Pensate che più del 50% di donne compongono oggi i migranti. Cento anni fa erano meno di un quarto. Chi si muoveva erano i maschi. Eventualmente se avevano successo poi chiamavano la moglie, le figlie, chiamavano il resto della famiglia. Oggi metà sono donne. Pensate alle Filippine, pensate alle Peruviane. Penso che le incontrerete nella vostra vita tutti i giorni. Ecco in questo caso non stiamo parlando del destino infame delle nigeriane. Stiamo parlando spesso invece di ragazze e di donne che hanno deciso liberamente, di propria volontà. E spesso questo corrisponde a un processo reale di emancipazione. La scelta migratoria, pur essendo una scelta pesante, però per queste ragazze è una scelta di indipendenza dalla famiglia di origine, è una scelta libera, volontaria, sempre con quelle caratteristiche che vi dicevo all'inizio. arrivano qui, stanno 5-6 anni, accumulano i soldi, li mandano a casa, li risparmiano e poi tornano. Quindi come vedete c'è sempre la doppia faccia della realtà. Emancipazione, libertà, schiavitù. L'emigrazione femminile conserva sempre entrambi gli aspetti. Le rimesse degli emigrati. Che sono le rimesse? Sono i soldi che gli emigrati mandano a casa. Ora, come voi vedete nel nostro grafico, partiamo dal 91 e arriviamo al 2010, questa curva, cioè questa grandezza è sempre in costante ascesa. Come vedete i soldi guadagnati dai migranti guadagnati? Sono oggi più del doppio, quasi il triplo, degli aiuti che noi diamo ai paesi poveri. Con una differenza fondamentale. Mentre i nostri aiuti vanno ai governi, e spesso questi governi, soprattutto in Africa, sono governi non proprio onestissimi, spesso questo denaro viene sottratto da bustarelle, mazzette, insomma, quando poi arriva effettivamente nella situazione di bisogno, arriva spesso molto ridotto, i soldi dell'immigrato arrivano direttamente a casa. Arrivano direttamente nella situazione di bisogno. E quindi non si disperdono per strada. Quindi c'è una efficacia molto forte di queste rimesse. Perché insisto su questa cosa? Perché vi dà di nuovo un'idea del migrante, dell'immigrato, non come qualcuno che viene qua e ha il solo scopo di togliervi il posto di lavoro. Perché non ha nessuna intenzione di rimanere qua. Tanto è vero che lui i soldi li manda a casa. Se volesse rimanere qua, cosa fa un immigrato? Li mette da parte per comprarsi il negozio, per comprarsi il fondo, l'attività, per poter sviluppare la sua presenza qui. Se li manda tutti a casa, e qui fa una vita monastica, quando vedete questi alloggi di fortuna dove dormono, magari ammassati tutti insieme gli immigrati, non è perché sono selvaggi. È perché poter risparmiare significa poter mandare più soldi a casa. Non c'è mai la figura del selvaggio. C'è sempre delle scelte dei comportamenti razionali. E l'immigrato non fa differenza. Lui sta qui e risparmia il più possibile, quindi se può non pagare un affitto, è tanto di guadagnato, sono più soldi che mandi a casa. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire una cosa molto importante sul piano della conoscenza del fenomeno migratorio. E cioè che l'immigrato è qualcuno che mantiene delle salde, radici e contatti e rapporti col paese d'origine, con la propria famiglia. Gli manda tutto quello che riesce a risparmiare ed evidentemente perché gli manda i soldi a casa? invece di tenerseli qua. Perché pensa che migliorando la situazione a casa, domani potrà tornare anche lui. Proprio nella Germania abbiamo tante ricerche sociologiche che ci hanno detto una cosa molto interessante. Ci sono tante donne, vi dicevo più o meno la metà, turche, che sono emigrate in Germania. Dopo un periodo, 5-10 anni, tornano a casa. Spesso vengono dalla Turchia interna, da villaggi sperduti. E che cosa succede? Queste donne che tornano a casa sono rimaste musulmane, portano il loro velo, però hanno cambiato il loro atteggiamento su tante scelte della vita quotidiana. Vogliono essere loro a contare nel gestire i soldi di casa, non sono più disposti a riconoscere un potere assoluto al capo famiglia maschio e anziano. Vogliono poter decidere sul proprio corpo, sulle proprie scelte sentimentali, sulle proprie scelte riproduttive, aborto, gravidanza, eccetera, eccetera, divorzio. Ecco, tutto questo genera una nuova identità. Queste donne sono rimaste turche, sono rimaste musulmane, sono rimaste legate al loro paese, però hanno incorporato dei tratti di una nuova cultura che hanno appreso in Germania e quando tornano a casa sono le migliori ambasciatrici non dello scontro, ma dell'intreccio delle civiltà. Perché hanno capito che in Germania c'è qualcosa di buono e che qualcosa di buono può trasformare in meglio la Turchia. Allora capite che se il problema delle migrazioni riusciamo a gestirlo bene, possiamo dire di dare un bel colpo alle guerre, a quelle situazioni di conflitto che sono quelle da cui siamo partiti. Quindi il problema delle migrazioni non è semplicemente, come dire, una sciagura, arrivano questi poveracci e bisogna trovare e fare spazio anche a loro. Non è solo questo e non è soprattutto questo, perché questa gente poi vuole tornare a casa loro. Allora se noi li facciamo tornare in condizioni migliori abbiamo creato la possibilità che le culture si parlino e si trasformino. Queste donne non sono più rimaste le stesse e portano un conflitto nelle loro società. Certamente il loro ritorno a casa non è facile. Cominciano a leticare con il loro marito, con il loro padre, con i loro nonni. Aprono una trasformazione. Però è una trasformazione positiva in cui quindi il concetto per esempio di emancipazione e libertà della donna acquista un significato tendenzialmente universale. Cioè ritorna a quella dichiarazione dei diritti dell'uomo, non del cittadino, di cui si parlava in precedenza. Altro elemento interessante, dopo la crisi bancaria finanziaria del 2008, le rimesse stanno ormai pareggiando, il livello FD significa Foreign Direct Investment, cioè sono gli investimenti esteri diretti. Sono le multinazionali, sono quando la Del Monte va a comprare le banane Cicchita in Guatemala o in Colombia, quelli sono quei soldi lì, i soldi privati degli investimenti, investimenti esteri nei paesi poveri. Ecco, le rimesse dei nostri migranti stanno eguagliando il livello degli investimenti privati delle grandi compagnie multinazionali. Quindi vedete che questa massa di immigrati genera delle condizioni che trasformano il volto della società e dell'economia mondiale. Come vedete, rispetto ai numeri che vi ho detto prima, qui siamo a 92 mila, non so se si vedono 88 mila, diciamo le richieste di asilo stanno nell'ordine del centinaio di migliaia all'anno, quindi sono una minima parte rispetto ai migranti economici. I migranti economici rappresentano l'80-90% del flusso sia di immigrazione regolare sia di immigrazione clandestina. Noi siamo molto indietro, tutti gli allarmi che abbiamo, ah c'è troppi immigrati in Italia, ecco noi in realtà continuiamo ad avere una quota sia in cifra assoluta che in percentuale sulla popolazione molto inferiore. Accanto a Firenze c'è Prato, c'è un caso con i cinesi, forse avete letto, a dicembre è bruciato e sono morti otto operai e a Prato si lamentano tantissimo di questa presenza cinese, siamo nell'ordine del 15%, la quota dei cinesi sulla popolazione pratese, la nostra media nazionale di immigrati è la metà, il 7%, però per dire la Spagna, che non è un paese che se la passi molto bene, insomma come il livello di crisi economica sta più o meno come noi, ecco in Spagna hanno il 27% di immigrati, quindi quattro volte quelli che abbiamo noi e ripeto, non sto parlando di un paese ricco, non sto parlando della Svizzera, anche Svizzera sono il 27%, però per dirvi che spesso noi ci lamentiamo di sana pianta, perché? Perché per noi il fenomeno è nuovo, questi vecchi paesi coloniali, compresa la Spagna, hanno sempre avuto una prassi di rapporti, di relazioni con le parti dell'impero, quindi hanno sempre avuto una consuetudine con la presenza di stranieri, di immigrati. L'Italia no, a parte i turisti e a parte le dominazioni straniere che però risalgono appunto a due secoli fa, per noi l'immigrazione è un fatto dopo gli anni 70 e quindi è un fatto molto recente, non siamo abituati a questo e questo ci provoca tutta una serie di problemi di adattamento, ci sembrano tanti, ecco in realtà bisogna dire che sul piano delle statistiche noi stiamo ancora molto indietro, accogliamo molti meno immigrati degli altri paesi europei. grosso modo noi abbiamo tre grandi poli attrattivi dei movimenti di migranti in tutto il mondo, uno è gli Stati Uniti, come cento anni fa gli Stati Uniti sono rimasti e continuano ad essere il massimo laboratorio di sperimentazione di una società multietnica, la loro forza è di essere una società di immigrati. Dietro il daim, la moneta da 10 centesimi, che è la moneta più usata negli Stati Uniti, c'è scritto in latino e pluribus unum che vuol dire da molti uno solo. È il motto della loro forma mentale. Sono in tanti arrivare qua, noi siamo la terra delle opportunità, chiunque può diventare presidente degli Stati Uniti e pluribus unum, quell'unum sono gli Stati Uniti che vengono formati dalle molte differenze. Quando si riconosce, ha ragione, il ruolo leader degli Stati Uniti anche sul piano dell'innovazione, no? L'iPhone, l'iPad, chi l'ha fatto? L'hanno fatto gli Stati Uniti? Ecco, spesso si dimentica che la forza di quella società è quella di essere il prodotto riuscito di tante differenze, di tante culture diverse. Secondo polo attrattivo l'Europa, l'Europa si è trasformata da terra di emigrazione cento anni fa è diventata terra di emigrazione, dal Nord Africa, dalla Cina, dall'America Latina. Abbiamo un terzo polo di attrazione, spesso si se ne dimentica, che sono i paesi del Golfo Persico, gli Emirati Arabi. Negli Emirati Arabi c'è questa situazione particolare per cui spesso gli immigrati rappresentano tre quarti della popolazione, vengono quasi tutti dall'Asia, India, sud-est asiatico, Vietnam, Malesia, Filippine e sono lavoratori. Se loro vanno fuori dal compound, cioè dalla zona del cantiere, da dove sono a fare gli operai, loro non esistono per la legge, non possono uscire da quel recinto perché fuori da quel recinto non vengono riconosciuti come individui con diritti dal Kuwait, dal Bahrain, da Abu Dhabi, dai vari paesi arabi in cui stanno a lavorare. Il paradosso qual è? È che hanno tutti i diritti a cui noi siamo arrivati per ultimi, la pensione, l'assicurazione contro gli infortuni, l'assicurazione contro le malattie in quanto lavoratori, però non hanno i diritti civili. Se escono di là e li mette sotto una macchina, quello che l'ha messi sotto non rischia nulla perché quella persona è un'ombra, non esiste. Il lavoro delle Nazioni Unite finisce con l'obiettivo di riportare a casa quella persona. Non è quindi di tenerli nel campo profughi, in quelle condizioni di fortuna. L'obiettivo è quello di riportarli a casa. La seconda, tornano in Angola, dal Congo, in Shasa, in Burundi, dalla Tanzania, sono tutte persone che erano fuoriuscite per quelle guerre civili di cui si parlava in precedenza. Qual è invece l'impatto, mi chiedeva il vostro professore, di quelli che invece restano da noi? Allora, i dati sono molto semplici. Gli Stati Uniti hanno un tasso di disoccupazione al 4%, noi ce l'abbiamo più che doppio, all'8%, la Germania uguale. Germania e Stati Uniti sono due paesi che hanno un tasso di immigrazione più che doppio rispetto a quello italiano. Allora, com'è che avendo più immigrati però hanno anche meno disoccupati? Cioè riescono a dare lavoro sia ai loro cittadini che anche agli immigrati? E noi italiani invece abbiamo meno immigrati e ciò nonostante però abbiamo più disoccupati. C'è una contraddizione. La contraddizione viene risolta dagli economisti con una formuletta che è mercato duale del lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella realtà funzionano due mercati del lavoro praticamente separati. Negli Stati Uniti, come da noi, molti degli immigrati, lì la quota maggioritaria sono messicani, anche perché c'è solo una frontiera, c'è un muro come il muro di Berlino, ma molti passano, insomma una frontiera abbastanza porosa, facile da superare. Ecco, gran parte di questi messicani vanno a impiegarsi come badanti, diremmo noi, servizi alla persona. Gli americani li chiamano 3D, che non è la terza dimensione, ma vuol dire che quelle 3D sono dirty, dangerous and demanding, cioè sporchi, pericolosi e faticosi. Sono i lavori che vanno a fare gli immigrati e sono lavori che quando possono permetterselo vengono scartati dai nativi, cioè dai cittadini statunitensi. La stessa cosa succede da noi. Cosa vanno a fare le nostre Filippine, le nostre Peruviani? Vanno a fare le badanti alle nostre nonne. Sono lavori che noi tendenzialmente cerchiamo di scartare, perché tutti noi abbiamo un titolo di studio, una laurea e cercheremmo di mettere in pratica e di trovare un lavoro corrispondente a quel titolo di studio. Ecco perché quando noi abbiamo poco lavoro, gli immigrati non è che incidano, non sono loro la causa del poco lavoro. Le prime legislazioni anti-immigrati nascono nel 1973 e nel 1973 l'afflusso di immigrati in Europa era minimo, si sviluppa dopo, negli anni 80. Perché si fanno queste legislazioni contro immigrati che non ci sono? Perché c'è la crisi petrolifera. Il primo grande shock, i vostri genitori, se glielo vedete, si ricordano le domeniche a piedi, perché non c'era più benzina. La benzina era quadruplicata di prezzo nel giro di qualche giorno, quindi oggi noi ci si lamenta, no? Si aumenta 10 centesimi. Ecco, lì fate conto, costava 100, il giorno dopo costa 400, quindi tutti a piedi. In quella crisi si genera uno stato di apprensione, di paura, di insicurezza nelle popolazioni. Cosa fa la politica? Lo risolve dando la caccia al capo respiratorio, che non esiste, ma che però serve a scaricare la paura. Intanto noi li proteggiamo dagli immigrati, che non ci sono, ma non importa. È un segnale che cerca di rassicurare, in modo del tutto illusorio, le popolazioni rispetto a una situazione di crisi, di crisi economica molto grave. Quando poi si sviluppano i flussi migratori, non hanno una grande incidenza sui livelli di occupazione, perché vanno a fare lavori che i nativi scartano. I nostri cinesi di Prato spesso lavorano come terzisti, si dice così nel gergo della manifattura testile tradizionali, per le ditte italiane. E quindi in realtà magari lo stesso piccolo imprenditore pratese italiano che protesta sui giornali contro la presenza dei cinesi, è lui a dargli da lavorare, perché naturalmente gli può garantire un salario, una retribuzione dei suoi operai molto inferiore a quella degli operai italiani. Ecco perché ci sono i fenomeni come a dicembre che è bruciata quella situazione di semischiavitù. Badate anche lì non perché i cinesi sono selvaggi, quelli sono tutti migranti che vogliono stare 4 o 5 anni in quella situazione disumana per mandare i soldi a casa che abbiamo visto prima. Cioè per risolvere una volta e per tutti i problemi di povertà che hanno a casa e per poter tornare a casa. Le naturalizzazioni dei cinesi di Prato, cioè la loro acquisizione di cittadinanza italiana, è minima. Siamo nell'ordine dello zero virgola per cento. La grande immaginanza di lui torna a casa e si sottopone a quelle condizioni proibitive di lavorare 8, 12, 14 ore al giorno e giustamente i pratesi protestano perché questo è violare le leggi, non si deve lavorare in queste condizioni in Italia e quindi è una protesta sacrosanta. Ma lo fanno non perché dice, eh sono cinesi, sono abituati loro. No, lo fanno perché il loro obiettivo è cercare di risparmiare più soldi possibili per mandare più soldi possibili a casa. Capito? Quindi ecco perché ci sono i conti che non tornano sul piano dell'occupazione e dell'immigrazione. È molto difficile che l'immigrato tolga lavoro. È molto più frequente un altro processo, attenzione, che è la delocalizzazione. Quando a spostarsi non sono i lavoratori, non sono gli immigrati che vengono qua, ma sono i posti di lavoro. Che succede? Succede che la Benetton invece di appoggiarsi alle piccoli laboratori di Prato per creare le vostre magliette, trova più conveniente andarla a fare in Cina perché i prezzi dei trasporti si sono molto abbattuti e il salario medio cinese è oggi il 4% di quello statunitense. E cioè che il migrante è qualcuno che se può, se riesce, sceglie di tornare a casa. Molto raramente si verificano i Rudolf Giuliani, cioè gli immigrati che hanno successo e decidono di restare permanentemente nel paese dove hanno deciso di rifarsi una nuova vita. molto più spesso decidono di tornare a casa e pensate che questa cosa fino al 1940, fino agli anni del New Deal, gli anni di Roosevelt, scusate, gli anni tra le due guerre, gli Stati Uniti l'avevano rimossa, l'avevano cancellata. Per loro i re-migrants, come li chiamiamo noi, cioè quelli che tornano a casa, non dovevano esistere perché il loro motto era e pluribus unum. Chi arrivava qui era felice di arrivare negli Stati Uniti. Per loro i re-migrants non esistevano e invece, poi ce ne siamo resi conto, dal 1940 si sono cominciate a tenere le statistiche, fra il 40 e il 50% degli emigrati di tutte le nazionalità tornano a casa. In certe regioni, per esempio i greci, la percentuale sale all'80%. IDP, perché questo vuol dire internally displaced persons, in inglese sono persone spostate, displaced, internamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che se possono, cioè se le condizioni di guerra, di miseria nelle situazioni nazionali lo permettono, si preferisce ai profughi non far varcare le frontiere della propria nazione. Si preferiscono tenerli dentro la loro frontiera. Allora riuscire a mantenerli, a non trasformarli in rifugiati, ma in internally displaced persons, cioè persone che rimangono dentro la loro frontiera, è qualcosa che sta diventando sempre più strategicamente importante per le Nazioni Unite. E infatti vedete che soprattutto la nostra regione dei Grandi Laghi, che è stata la grande produttrice dei profughi, è quella dove questa politica si è cercato di applicarla di più. Le motivazioni dei migranti. Abbiamo i migranti della paura, quelli che devono sopravvivere nella situazione di emergenza umanitaria, le guerre e quant'altro, anche le catastrofi, anche lo tsunami, anche le carestie, eccetera. Poi ci sono i migranti che vengono fuori da una situazione di bisogno, di povertà e poi ci sono il nostro ingegnere informatico indiano, quello che migra per trovarsi in una situazione migliore. La sociologia delle migrazioni ha adottato gli stessi termini delle sliding doors, cioè push e pull. C'è quello che viene spinto, push, perché scappa, perché ha una situazione o di incolumità fisica a rischio o di sciagura, catastrofe, guerra civile. Quindi viene push, spinto via. Invece c'è l'altro pull che viene attratto, viene attratto dal fatto che gli stipendi in quel paese sono molto più alti e quindi io posso emigrare e andare in quel luogo lì e lo faccio liberamente, tra virgolette. Dico tra virgolette perché sono sempre spinto da una situazione di bisogno, però in una certa misura è una mia scelta libera, volontaria. Nella stessa persona si trovano sia fattori push che fattori pull e quindi appunto ci sono anche scelte volontarie di rifiuto, di fuga dalla propria situazione di origine. Spesso a una situazione di bisogno si sovrappone anche l'attrazione per altri modi di vita. Spesso c'è il senso dell'avventura. Le motivazioni che stanno alla base del migrante sono molte e possono mischiarsi ciascuna in modo variabile dentro ciascun essere umano. Voi sapete più o meno cos'è il DNA? No. Diciamo che per il nostra comodità è il software che regola lo sviluppo del nostro hardware, cioè del nostro organismo. Ognuno di noi ha un suo DNA che lo rende unico, diverso da tutti gli altri esseri umani. Hanno estratto con delle tecniche il DNA dagli scheletri dei nostri più lontani antenati, dei ritrovamenti preistorici dell'Homo sapiens 50.000-200.000 anni prima della nascita di Cristo. E che cosa hanno scoperto? Che lo stesso DNA si trova 200.000 anni qui nel cuore dell'Africa, 70.000 anni qua in Cina, 40.000 anni prima della nascita di Cristo in Europa. Cosa vuol dire? Vuol dire che è stata cancellata l'ipotesi che fin dall'Ottocento si chiamava poligenetica. E cioè che la razza umana fosse in realtà diverse razze, nera in Africa, gialla in Asia, bianca in Europa, e che fossero apparsi più o meno contemporaneamente nostri antenati colorati così diversamente. Poligenetica, le razze umane sono molte. Questa è la dimostrazione scientifica definitiva, irreversibile, dell'ipotesi monogenetica. Siamo tutti discendenti di un Adamo, chiamiamolo così tra virgolette, che era nero e che è nato nel cuore dell'Africa. Poi che cosa succede? Questa gente migra. Ed è chiaro perché migra. Non conoscevano l'agricoltura. Erano cacciatori e raccoglitori. E questa mappa è la ricostruzione dei loro movimenti che hanno fatto in decine di migliaia di anni. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'esperienza della migrazione del movimento è messa come imprinting del genere umano. Ecco, un'aturata a tutti i nostri antenati. Siamo tutti stati dei migranti, parlando dei nostri antenati, diventeremo tutti migranti. Voi siete destinati a viaggiare più dei vostri genitori. Quindi voi siete molto più diversi come abito, come abbigliamento, dei vostri nonni e siete molto più uguali a coetanei vostri che non avete mai conosciuto perché vivono a migliaia di chilometri di distanza. Questa è l'esperienza vostra. Se pensate ai vostri gusti musicali, se pensate ai film che guardate, vi renderete conto che voi vivete già alla globalizzazione e siete già mentalmente dei migranti, per voi le frontiere nazionali, l'essere italiano ha significato? Punto interrogativo. Ma anche per chi ha vissuto nella Repubblica italiana, in democrazia, l'attraversamento della frontiera era qualcosa di più raro, di più strano, di quanto non lo sia per voi. Ripeto, se non fisicamente, almeno mentalmente, appunto nello stile di vita, in come ci si veste, nella musica che si consuma. Questo è come tornare alle origini. In questa vostra natura nuova, globale, non fate altro che riprendere gli imprinti dei nostri più lontani antenati. Sì. 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 Sì.